Nuova Selva Pesca E' stata da sempre un'azienda a conduzione familiare Ed oggi con me siamo la quarta generazione Ripercorrendo i brevi cenni storici ricordiamo quando l'azienda è nata dal mio bisnonno Mario Che vendeva il pesce nei piccoli territori qui locali come Bucchianico, Sulmona Ed oggi siamo arrivati a coprire buona parte del territorio nazionale ed europeo Da oltre 50 anni la nostra azienda è sul campo del settore etico Da prima eravamo molto piccolini E piano piano siamo riusciti a crescere tanto Da arrivare al livello nazionale ed europeo Infine di accontentare anche la grande distribuzione COOP Con la nostra qualità di prodotto La nostra azienda si è fermata giorno per giorno Senza mai perdere di vista il nostro controllo filiera qualità Consiste nel scaricare tutte le notti le barche con i locali, col prodotto locale Partecipando ogni notte nei mercati adriatici per garantire una certa qualità, un certo controllo E servizio alle piattaforme COOP Nuova Selva Pesca riesce a garantire la freschezza dei propri prodotti E trasportando dall'imbarcazione fino alla tavola del consumatore Entro in entro 12 o al massimo 24 ore Questo significa che le piattaforme COOP ricevono i nostri prodotti in giornata Abbiamo un obiettivo preciso qui Garantire la freschezza sempre ad ogni costo Questo lo si può fare tenendo conto delle norme vigenti Degli strumenti innovativi per la distribuzione Ed è grazie a essi che noi riusciamo a tenere degli standard alti qualitativamente